Impatto Torino è la declinazione torinese del progetto Impatto, che è un progetto regionale promosso da NovaCoop come modello innovativo di politiche sociali pensato coinvolgendo dei partner territoriali. Impatto Torino è già partito, oggi l'abbiamo presentato perché è un momento di snodo in cui stanno per partire delle attività particolarmente significative, abbiamo già sentito parlare di quello che saranno le C-Box ma è altrettanto importante proprio nello spazio in cui siamo oggi il fatto che verrà realizzato un escape room quindi una modalità di gioco, di coinvolgimento estremamente moderna, di solito usata per scopi commerciali di solito le escape room parlano di zombie, tesori nascosti, enigmi polizieschi questa volta sarà un escape room che parlava di sostenibilità. non c'è solo le escape room, ci saranno anche delle attività nella circoscrizione 5 qui nel territorio delle vallette dedicate invece a tutto quello che è la promozione della salute. L'idea che unisce tutte queste attività è di parlare in maniera piacevole di cibo, di benessere, di salute, di sostenibilità cercando di coinvolgere varie fasce della popolazione. Il progetto Impatto consente di sviluppare una cultura positiva intorno al cibo che diventa così strumento di salute ed è anche uno dei più importanti e potenti canali per attivare relazioni elemento su cui con l'ASL e col servizio di epidemiologia noi stiamo lavorando proprio per promuovere salute creare relazioni di fiducia tra le persone affinché possano sentirsi accudite, seguite, accompagnate lungo percorsi di stili di vita sani e di avvicinamento anche ai servizi sanitari senza paure e remore. All'interno di Impatto Babelica si è occupata di tirare un po' le fila di quelli che sono tutti i partner di progetto grazie all'utilizzo delle mappe narrative abbiamo offerto una formazione a tutti i rappresentanti dei tavoli per cercare di trovare uno strumento comune per poter riunire tutti gli eventi e tutte le proposte all'interno del progetto in particolare quindi sulla mappa sono riportati tutte quegli azioni concrete che Nova Coop e il tavolo di impatto e quindi tutti i suoi partner porta avanti per poter diffondere le buone pratiche legate ai quattro obiettivi di sviluppo sostenibile. Il progetto Impatto dovrebbe essere fatto in ogni comunità locale perché mette insieme le intelligenze e le energie presenti nelle associazioni, nelle imprese sociali, nella società civile e li collega per raggiungere dei risultati appunto di impatto rispetto ad alcuni obiettivi del millennio. Snodi contribuisce nel progetto Impatto a fare in modo che l'esperienza di impatto possa essere scalata in altri territori. Sono nati 17 pillole di 17 domande che i giovani fanno ai territori e alle persone che abitano il territorio per capire cosa e come fare cambiamento significativo ed impatto nei territori.